Adesso parliamo dell'altro argomento del giorno perché la vicenda di strada dei parchi continua ad avere risvolti. L'ultima è che il Tar ha sospeso, accogliendo l'istanza presentata proprio da strada dei parchi, l'esecuzione degli atti impugnati fino alla Camera di Consiglio del 7 settembre. Strada dei parchi, infatti, che è la ex concessionaria di A24 e A25, passate, come si sa, recentemente all'ANAS dopo la revoca da parte del Ministero, dunque strada dei parchi aveva presentato il ricorso al Tar del Lazio in risposta a questa revoca anticipata. La SPA ha impugnato il decreto legge, i legali hanno chiesto la sospensiva, adducendo diversi profili di incostituzionalità e tracciando anche la proiezione economica del danno che derivava dalla decisione, un danno che potrebbe avere conseguenze per l'intero gruppo. La Holding fa capo all'imprenditore abruzzese Carlo Toto e costituisce, scrive sempre il comunicato di strada dei parchi, l'8% del PIL dell'Abruzzo. In particolare ci sono 1.700 dipendenti, di cui 800 impegnati in strada dei parchi, concessionaria delle due autostrade che invece dalla mezzanotte di giovedì scorso sono passate nelle mani dell'ANAS. Ora quest'ultimo atto è appunto, lo ripeto, la decisione della Tar di accogliere questa istanza di sospensione, almeno fino all'esame completo degli argomenti.